ragazzi salve a tutti quanti e buon trovati qui di nuovo su shot gaming il vostro baglio che vi fa un annuncio youtube si accorta che erano quattro giorni e mezzo che andava in live continuamente e mi hanno visto lo strike mi hanno bloccato anche la continuazione della live ora questa live continuerà comunque come previsto ininterrottamente e per tre mesi finché non non capiscono cioè continuerò a farla se continua a fare live su twitch e sul secondo canale il mio secondo canale è il mio canale il mio canale personale si chiama giuseppe baia ho già trasferito la grafica troverete il link a questo canale in descrizione qua di questo video per cui mi raccomando ragazzi ci si vede comunque sempre su youtube e sempre sul su anche su youtube e sempre su questo canale io chiederò per favore vi chiedo a quelli nuovi l'iscrizione sul primo canale di shout gaming così da farvi arrivare a mille iscritti ugualmente ragazzi ci vediamo più tardi verso le nove come sempre su youtube e su twitch un bacione a tutti quanti ciao